ciao ragazzi siamo tornati su naruto ultimate ninja storm 4 come promesso siamo ritornati ricordo che io ho registrato 6 clip che erano le 11 di sera e ho deciso di fare una via yin anzi un episodio della via yang e un altro episodio della via yin questo perché alla fine convergono sempre verso lo stesso obiettivo no quindi tanto faccio uno o l'altro la stessa cosa quindi vabbè partiamo speriamo che ci facciamo perché tempo stimato per come dei questioni di 14 minuti andiamo allora coloro che tutto sanno andiamo a rompere il culo a madara vabbè dai vediamoci sto fermato ah non dobbiamo combattere contro madara che strano ah eh ma dobbiamo far rivivere gli okage chi c'è un sabato giro del diavolo annullamento questa maschera è necessaria per usare la tecnica descritta in quella pergamena si chiama il diavolo della morte che possiede il culo che la indossa così si ottiene il culo per liberare tutto ciò che sta suggerendo il diavolo della morte ma ma 15 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 12 12 13 13 I hokage del passato. I quattro. Ma che cazzurri che sono. Hashirama. Senju. Hashirama Senju. Tobi Lama. Il terzo kage. Ma non mi ricorda come si chiama il nome. Il quarto kage. Il terzo. Il terzo. Non mi ricorda come si chiama il nome. Il terzo che c'è un po' di cose che c'è. Il sattava per il suo spazio. D'accordo. Mi hauto il terzo. Mi chiamo per me chiedere. Il terzo. sasca con sanda e me il taccini nazion da cotto il io già no anta no 口から聞いておきたい イタチのすべてを g 選手のアンサーシーベディ本郎はと大フェルシーだそれが一つながらなぜ演奏を一人で食い止め 暁にすぐのスパイとして入る役は上がるまでの中佐藤を守った 話しに、見たい方に守りたいことを 順番にしてください もちろん よし 初めての京が続いており 宮とは何だ 忍びとは そもそも何なんだ イタチは Anni ha... Conoha li liuòsata nemmo kakavarà se... Nici gacete Sato oma morì... Conoha no si nobi de arco... Noi qui si nobi... Cosa cosa è? Cosa cosa è? Cosa cosa ha fatto questa situazione? Cosa cosa ha fatto questo? Cosa cosa ha fatto questo? Cosa cosa ha fatto? Cosa cosa ha fatto il tuo detto? Noi... Conoha... Ma ho trovato il tuo detto... E' riscato. E' riscato. Cosa cosa ha fatto? Oh... Non ho mai asilo... Non ho l'ho, ma... la porta No, potrebbe essere pronto a parlare di questa cosa che voglia di chiedere. C'è qualcosa? È ora di guerra. Uchiha Madara è tornato a rinforzare, e non riesce a rinforzare il mondo. Sì, sicuramente. Qui ci si sente un forte chakra. Secondo l'aereo, non c'è un chakra. Ma... Quei che ci sono? Questo è... Questo è... Questo è... NARUTO! Tu sei anche lì! C'è stato ricordato. c'è il cuore Vabbè sì, questo è il combattimento iniziale, è la una torta, grazie. Eh, combatteremo senza sosta. Fin quando noi due non ha ceduto, quello che ha ceduto ovviamente è matare, non ha scontato il culo. E quindi? Devemo ripetere, ok, scopigli di matare, non possiamo usare le tecniche sui termini, ok. Pronto! Mi piacciono i culo a mirar la seconda volta. Ok, ok. 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 No, mi sveglia ferma, no, non ce l'ho fatica la figlia, ma è morta, forza, ma quant'è pepico Naruto, cazzo, ma dara, ma dara, ma dara, no, tu sei mio amico, bla 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 bla, ah, qui? Ci saranno? that's crazy, pashlama, your beauty! E' una copia Ricordatevi Quando dice Aspettate un momento Ricordatevi una cosa In giapponese quando si sente la parola Mamoru vuol dire Difendere Se io dico ad esempio Watashi wa mamoru Sta a significare io ti proteggo Ti proteggerò Bene continuiamo Sì 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 volevo come tocchi capo chi metà ima o mi mamolo tamini tale sino buca è un'altra cosa fa un'altra cosa sentite dire tamenii tipo watashi wa mamoru tamenii oppure watashi wa tameni mamoru di questo tamenii si mette per identificare un obiettivo cioè ma vi spiego è come se fosse una specie di pronome di obiettivo qualcosa del genere vabbè da noi non chiamiamoci troppo non posso vedere nevole oa cacchi sui tomo o coro sto sa tomo tamenii ed ha detto tamenii sato to a haggiwari ma dalla torre vanno zonda sato to a ichi zoku to ichi zoku o tsunami il mondo d'atta mucchi sui gioca la città gioca taci di soli vota mostramenio taises una cana me l'ha detto di nuovo sate sottotitoli che la tamenii ma quando vabbè questa scema che ha molto obiettivi vabbè tra lasciando poi vabbè che sottotitolato ma se è un po sottotitolato quando sentite dire tamenii o mamoru vuol dire che si risponde a qualcosa che sta proteggendo vabbè dai facciamo qua non giudiamoci troppo ok abbiamo finito bene andiamo con la prossima clip trama c'è un altro spettacolo le trame secondarie non hanno alcun effetto sul completamento del cavio dunque puoi affrontarle quando vuoi prenditi il tempo per portarmi tutte le trame secondarie ok abbiamo queste due verso il campo di battaglia bene noi ci vediamo nel prossimo video bella Grazie a tutti.